che cambiano d'avvigliamento da una scena all'altra e cose di questo genere però nonostante questo la pellicola risulta stare al settimo posto e non in vetta la classifica dove invece troviamo il settimo episodio di Fast and Furious con ben 41 errori 41, bella percentuale Alessandra mi dispiace, un errore